no ragazzi sto per dirvi una cosa brutta oggi non continuerò con questo progetto bensì vi farò vedere una variante di questo lo so lo so è una cosa imperdonabile questo una cosa imperdonabile il fatto che io non proceda con le lezioni però ragazzi credetemi che ne varrà la pena vabbè comunque è aperto gli scherzi oggi vi faccio vedere una variante di questo ovvero vi faccio vedere appunto come adattare lo sketch scritto appunto per un modulo i2c normale e farlo diventare appunto per un lcd i2c trovate il video qui sopra nelle schede del video appunto in cui ho utilizzato questo display trovate il video nelle schede dell'unboxing del modulo i2c e trovate anche nelle schede il video in cui ho spiegato appunto il modulo i2c ma continuiamo subito intanto faccio una copia di questo progetto per non intaccare l'originale insomma e vado a copiarlo nel mio desktop perfetto dal mio desktop ora lo vado ad aprire qui cosa dobbiamo fare allora dobbiamo prima di tutto modificare l'include perché la libreria liquid crystal non va bene va modificata con la libreria liquid crystal i2c quindi mi raccomando dovete installarla andando in sketch in più di libreria e gestione libreria una volta qui ciò che dobbiamo fare è cercare nella barra appunto di ricerca liquid crystal e non è questa questa qui per il liquid crystal normale è questa qui di ben a arblaster appunto una libreria per la comunicazione i2c con gli lcd 20 0q 20 per 4 e 16 per 2 mi raccomando non installate questa perché ha una sintassi leggermente diversa da quella che vi farò vedere dovrebbe essere più o meno la stessa cosa però in ogni caso io mi baserò su questa quindi nell'include qui prima dell'h aggiungiamo un underscore i grande 2c grande la stessa cosa dobbiamo farla qui quindi liquid crystal tutto attaccato underscore i2c grande lcd e qui dobbiamo cancellare tutto e scrivere 0 per 27 che ora vi spiego da dove esce e vi spiego anche perché probabilmente voi dovete scrivere un'altra cosa virgola 16 virgola 2 ora questa parte qui se anche voi avete un lcd 16 per 2 rimanerà la stessa se avete un lcd 20 per 4 dovete mettere 20 virgola 4 se avete l'unico esemplare di lcd 37 per 22 dovete mettere 37 22 l'unica parte che può cambiare è questa cos'è questa parte questa parte l'indirizzo del nostro modulo i2c come si fa a scoprirlo beh purtroppo un modo non c'è dovete semplicemente andare a tentativi e avere il culo appunto di beccarlo non è vero sto scherzando perché mi sono già immaginato la gente che aveva già le mani sulla tastiera e stava già per scrivere ma che cazzo dici c'è lo sketch apposta sì c'è uno sketch apposta che si chiama i2c scanner insomma vi lascio il link in descrizione per scaricarlo ma uno vale l'altro quindi anche se non utilizzate esattamente quello che utilizzo io comunque più o meno sono tutti uguali quindi non c'è alcun tipo di problema appunto l'apriamo attendiamo che si apra e lo andiamo a caricare su arduino ovviamente voi non modificate assolutamente niente lasciatelo così come e caricatelo direttamente dopodiché apriamo il monitor seriale e lui appunto qua ci dirà i2c device fa un dat 0x27 il nostro indirizzo è 0x27 normalmente è sempre così dovrebbe essere così anche per voi ma può essere anche 0x68 insomma voi mettete quello che vi esce lì questo sketch ora possiamo anche chiuderlo e qui mettete il risultato appunto dello sketch dopodiché procediamo l'ultima riga da modificare è questa quindi qui togliamo tutto lasciamo semplicemente lc begin aperta tonda chiusa tonda punto e virgola basta così ora possiamo caricare lo sketch così com'è senza fare ulteriori modifiche e appunto andiamo a vedere il funzionamento allora ciò che ci serve ovviamente il nostro cavo e il nostro arduino dopodiché il nostro modulo i2c con l'lcd collegati appunto tramite una breadboard e dopo di che ovviamente i nostri quattro cavetti appunto per andare a collegare il modulo i2c nel caso vi foste persi il video in cui parlo del modulo i2c se non sapete a cosa serve se non sapete come funziona vi consiglio di andare a vedere il video che trovate nelle schede e lì insomma spiego un po' cosa serve e come funziona insomma il perché di quattro cavetti per collegare un lcd allora iniziamo subito faccio vedere intanto i pin così allora intanto vediamo subito che abbiamo un gnd vcc sda ed scl poi nell'altro video ho spiegato anche a cosa serve il potenziometro jumper insomma ma andiamo subito appunto a collegare prima di tutto i cavetti ora partiamo subito dal primo cavetto che è il gnd e lo andiamo a collegare ad uno dei gnd di arduino non ho nessuna importanza quale basta che appunto sia un gnd dopo di che il cavetto subito dopo va collegato al più 5 volt che è il pilino in parte accanto al gnd se avete usato lo stesso gnd che ho usato io dopo di che colleghiamo il pin subito dopo che è lsda al pin a4 ma dopo vedremo anche un pin alternativo e dopo di che colleghiamo il pin scl al pin a5 comunque per questi due cavetti qui finali ci sono dei pin alternativi che vi farò vedere adesso appena finiremo appunto appena finirò di farvi vedere il funzionamento ora semplicemente vado a caricare lo sketch che vi ho fatto vedere prima quello adattato e vado a collegare appunto il mio arduino al computer come vedete lui funzionerà allo stesso identico modo di sempre funzionerà come nel video di domenica scorsa che vi lascio nelle schede con la differenza che abbiamo usato quattro cavi al posto di 16 stiamo utilizzando la breadboard solo per collegare appunto l'LCD e il modulo piuttosto che per collegare un'infinità di cavetti i pin alternativi di cui vi parlavo prima sono scolleghiamo qui i pin sda ed scl che sono nella header digital di arduino come vedete qui gli ultimi due pin sono sda ed scl noi ovviamente questi pin possiamo sfruttarli e il nostro modulo funzionerà allo stesso modo vi faccio vedere quindi il pin scl vado a collegarlo al pin scl di arduino che è proprio l'ultimo e il pin sda vado a collegarlo al pin sda di arduino che è il penultimo insomma quello accanto a quello che abbiamo appena collegato ok se ora vado a collegare appunto il mio arduino lui funzionerà normalmente ossia più o meno ok ho invertito i cavetti qui in fondo mi raccomando non invertire i cavetti perché non è che si rovini ma semplicemente non funziona quindi quando vado ad invertire i cavi lui chiaramente riprenderà a funzionare senza alcun problema però chiaramente prima dobbiamo resettare l'arduino tramite l'apposito pulsantino vado a resettare l'arduino e appunto lui come vedete funzionerà normalmente come sempre ok 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 ok